Come posso aiutarti, Gene? Non mi sento mai contento e tendo ad arrabbiarmi. Lei aiuta la gente che ha questi problemi, giusto? Sì. Per tutta la vita ho cercato di conoscere me stesso per poter aiutare gli altri a capire se stessi, per migliorare i loro legami e... eccomi qui. È ora di tornare in terapia? Voglio lei. Voglio l'esperto. Non è normale. Ho bisogno di stare meglio. Chi riesce ad arrivare fin qui, chi sceglie volontariamente di entrare in terapia e di mettere in gioco le sue esperienze difficili, può essere aiutato. Ho problemi ben più grandi. Io ho una compulsione. Uccido le persone. Dovrei raccontarle di più della mia vita? Il successo della terapia richiede un ambiente sicuro, senza ostacoli e paura che interferiscono nelle sedute. Non le dispiace mangiare mentre parliamo, vero? Noi. Noi. Grazie a tutti.